Drammatico incidente stradale poco prima delle 15 sulla statale del Foscagno a Tre Palle. Un ragazzino del paese di nemmeno 16 anni è morto nello scontro fra la sua motocross ed un'auto, proprio allo scolinamento del Passo d'Eira in località Gembrè sulla statale 301. Stando da una prima sommaria ricostruzione, sembra che il giovane, mentre procedeva in direzione di Bormio, abbia perso il controllo della sua due ruote. Inevitabile lo schianto frontale con la vettura, che procedeva nell'opposto senso di marcia. Vana la corsa sul posto dei soccorritori, giunti con l'eleambulanza del 118, insieme a polizia locale di Livigno e carabinieri della compagnia di Tirano. Il cuore del giovane, che avrebbe compiuto 16 anni a settembre, ha smesso di battere per le gravissime lesioni riportate nel violento impatto. La dinamica dell'accaduto è ora al vaglio della polizia locale. Avvisato il magistrato di turno Giulia Sicignano, gli agenti hanno effettuato tutti i rilievi necessari a ricostruire le cause all'origine dell'incidente. Sconvolti gli abitanti della piccola ma nota frazione del territorio livignese, in cui ci si conosce tutti. Nonostante il massiccio flusso turistico che attraversa il paese, quella di Tre Palle è una comunità conosciuta proprio per la sua coesione. Grazie. Grazie.